Non riesco più a fare video monotematici, anche in questa occasione parlerò di almeno due argomenti. Il primo è il Dillandogbiss appena finito di leggere, il secondo è una certa ideuzza che da un po' di tempo mi sfarfalla nella mente. Buoni fumetti a tutti e dunque, e dunque partiamo con il Dillandogbiss. Eccolo qui, l'ho comprato quest'oggi, l'ho già letto, è un albo che si legge in maniera molto molto agevole. Vediamo quindi il chi ha fatto che cosa e poi e poi. Vedremo un po' più nel dettaglio il volume. Allora, dunque, il titolo L'Isola dai due soli, ideazione e supervisione Tiziano Sclavi, soggetto e sceneggiatura Davide Larosa, i disegni sono di Franco Saudelli, copertina Gianluca e Raul Cestaro, il lettering Riccardo Riboldi. Ricordo sempre che adesso nel chi ha fatto che cosa, gli albi di Dillandogbiss, la testata di Dillandogbiss risulta a cura di Barbara Baraldi. Allora, andiamo per ordine e vediamo la copertina che a me è piaciuta tantissimo. Allora, questi due soli che campeggiano alle spalle di Dillandogbiss danno già l'impressione netta che ci troviamo di fronte a una di quelle storie un po' sognate, un po' psichedeliche che spesse volte hanno fatto capolino all'interno non solo della serie mensile, ma anche in diversi albi fuori serie. La copertina è una copertina che a me sinceramente piace parecchio, vedete che anche Dillandogbiss è abbastanza ben delineato, ma soprattutto vedete gli spruzzi dell'acqua, questo tema del naufragio, che ha fatto capolino, a dire la verità, anche nell'ultima copertina del mensile di Zagor, ma in toni completamente diversi. Mentre la copertina di Zagor è una copertina notturna e gotica, questa è una copertina più che solare, addirittura ci sono due soli, e quindi diciamo più sull'avventuroso, il tema di questa immagine, che non tenebrosa come quella di Zagor. Quindi una copertina che rende bene il contenuto di quello che poi andremo a leggere all'interno dell'albo, è disegnata bene, insomma, una copertina che a me piace. Andando all'interno dell'albo è molto molto bello anche il redazionale di Barbara Baraldi, sono redazionali che hanno cambiato completamente il tenore rispetto a quelli antecedenti di Roberto Recchioni, che erano dei redazionali molto più succinti, quasi essenziali, userei dire, mentre qui vedete che si vede la impostazione di questa autrice, che è anche però una scrittrice di libri, e quindi il tono intanto è molto molto più colloquiale, in senso quasi salottiero, ma inoltre è anche farcito di riferimenti bibliografici molto in sintonia, secondo me, con la tradizione di Dylan Dogg. È un bel redazionale, mi piace il modo che sta assumendo Barbara Baraldi, un modo, ripeto, molto colloquiale, molto amichevole. Andiamo ai disegni all'interno. Allora, i disegni all'interno sono di Franco Saudelli, che, insomma, è un disegnatore che era già famoso per chi si occupa di fumetto, anche prima di approdare sulla testata di Dylan Dogg, era già, insomma, famoso, comunque molto conosciuto. Vi faccio vedere alcune tavole, molto, molto interessanti. Franco Saudelli ha questo tratto chiaro, molto chiaro, si nota che è stata data una certa libertà nell'impostazione delle tavole a Saudelli, perché, come vedete, insomma, la griglia bonelliana qui, insomma, è abbastanza... sì, cioè, ogni tanto fa capolino, ma ha anche no. Saudelli... guardate... Saudelli ha questo stile apparentemente non dettagliatissimo quando rappresenta sia i volti che gli sfondi che gli oggetti, le nature morte. Apparentemente, dico non dettagliatissimo, in realtà fa parte di uno stile, a mio parere, che si è molto affinato nel tempo ed è uno stile che a me sinceramente piace molto. Guardate questa splash con Dylan in chiaro e tutto il resto, quasi tutto il resto, in scuro, in tono scuro. Sembra quasi una fotografia fatta in negativo. Molto bella anche questa tavola. Devo dire, ci sono delle risoluzioni grafiche che mi hanno molto, molto colpito, ma direi che con Saudelli ero abbastanza sicuro, nel senso che avevo già visto alcune opere di quest'autore e mi avevano sempre molto soddisfatto. così come mi ha molto soddisfatto la storia. Devo dire che questa storia di Dylan Dogg mi è veramente piaciuta tanto, tanto. Allora, Davide La Rosa, gli faccio i complimenti in questo video, è riuscito a, secondo la mia opinione, a mixare elementi del Dylan Dogg più classico con qualche elemento nuovo. Intanto, allora, gli elementi più classici sono rappresentati dal fatto che ritorna un Dylan Dogg sicuramente più romantico, meno nervoso, meno inutilmente violento, in certi casi, l'avevamo visto, più riflessivo, anzi, qua è quasi completamente riflessivo, nel senso che si trova in diversi frangenti da solo in questa storia e quindi è un fluire di pensieri, appunto, nella mente dell'old boy. e quindi si recupera, ecco, questo aspetto di Dylan Dogg. Al tempo stesso, però, la storia è moderna per il suo incedere, nel senso che si legge in una maniera fluidissima. Ci sono dialoghi molto freschi, molto, sì, mai lunghi, mai melensi, molto dinamici, tutto è molto dinamico in questo albo, tant'è vero che l'ho letto in un tempo piuttosto breve, ma dialoghi dinamici non vuole dire dialoghi scarni, non vuole dire dialoghi in cui manca qualcosa, semplicemente si è andati all'osso della situazione, si sono fatti dei balloon molto calibrati, a mio parere, quindi la storia risulta veramente molto ben leggibile. questo rappresenta qualcosa di forse un pochino diverso rispetto a molte storie che io avevo letto anche fra i primi di Land Dogg, dove comunque c'era sempre una certa verbosità. qui invece andiamo molto più spediti. È un albo che a me è piaciuto molto, è un albo che io mi auguro che possa essere replicato, cioè sia come qualità dei disegni, sia come qualità appunto della storia, della sceneggiatura, dell'incedere, sia degli avvenimenti che dei dialoghi. la trama, beh, in due parole, di Land Dogg approda, come è ben facilmente intuibile, da questa copertina approda su un'isola, in cui ci sono appunto, per esempio, due soli, insomma ci sono alcuni fenomeni naturali abbastanza inusuali, dovrà il nostro scoprire come mai su quest'isola ci sono tutte queste anomalie. Detto questo, quindi detto che l'albo mi è piaciuto molto e che aspetto chiaramente anche i vostri commenti su questo albo bis, che tra l'altro, sottolino, è veramente un albo bis come io mi aspetterei, parlo per me, è una mia personalissima opinione, e cioè è un albo che può essere fruito tranquillamente da un lettore occasionale, un lettore che non legge da dieci anni di Land Dogg, prende in mano questo albo, lo legge, lo capisce, non deve fare riferimento ad altre storie più o meno recenti, quindi un plauso da parte mia, un plauso ancora maggiore allo staff di D-Land Dogg che secondo me ha capito bene l'opportunità che può essere fornita da un albo bis, cioè da questa striscia che si legge in copertina, albo bis, un'opportunità di fare entrare nella serie nuovi lettori. Questa, ripeto, però è una mia personalissima idea, io rispetto le idee di tutti. Ma vado al secondo punto, guardate un po' qui, Opla, referendum su Tex Zagor e Mr. No, un successo incredibile, non so in quanti di voi si ricorderanno, che, 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 nel, allora qui siamo, questo è tratto, è il retro copertino di un albo di Mr. No, piuttosto, piuttosto datato, il numero 71, rigorosamente originale, siamo nel 1981, quindi, insomma, vado abbastanza indietro negli anni, non so in quanti di voi, dicevo, si ricorderanno, che è stato fatto, appunto, in quel periodo, un referendum, da, quella che, oggi si chiama Sergio Bonelli, editore, ma che, allora, era la CEPIM, editore, auditoriale CEPIM, che poi si sarebbe, appunto, trasformata, in Sergio Bonelli, editore, questo sondaggio, io ricordo, che quando ero, io, insomma, ero abbastanza giovane, ero molto giovane, quando uscì questo sondaggio, ma, mi colpì moltissimo, perché, mi aveva dato, proprio, questa idea, di grande interattività, fra la Sergio Bonelli, editore, o CEPIM, che dir si voglia, e noi lettori, cioè, era stato, veramente, un ponte, lanciato, da quel genio, fantastico, che secondo me, è stato, e sempre sarà, Sergio Bonelli, un ponte, lanciato, fra autori, autori e disegnatori, e pubblico, e lettori, una cosa, fantastica, un, un sentirsi coinvolti, all'interno, comunque, di un progetto, all'interno di una, serie di albi, che venivano pubblicati, in quel periodo, come molti, continuano a essere pubblicati, ancora oggi, sulla scia, di questo ricordo, e, non ultimo, anche ispirato, da qualche commento, che mi è, che mi è arrivato, da qualche amico, del canale, mi è venuta, una, un'idea, magari ditemi la vostra, se questa idea, è troppo bizzarra, o troppo bislacca, cioè, l'idea è questa, tanto per farsi un'idea, di come sia, di quale sia, oggi, lo stato, della Bonelli, ma non, lo stato della Bonelli, in quanto, ce lo dice la Bonelli, ma, uno stato percepito, proprio, proprio, da noi lettori, ricordo sempre, che questo canale, nasce, per essere un canale, di dialogo, cioè, non è un canale, che nasce, Fabrics parla, e gli altri ascoltano, e basta, non è, un, monodirezionato, ma è, per quanto possibile, con questa strumentazione, tecnica, computeristica, per quanto possibile, è interattivo, quindi, mi piace, appunto, lo scambio, è il vero succo, la vera linfa, di questo canale, quindi, mi era venuta questa idea, sulla scorta, di un ricordo, della grande emozione, che mi diede, della grande gioia, che mi diede, questo referendum, nel, lontani, inizio, anni 80, vi propongo una cosa, perché, non mi, eh, inviate, i vostri pareri, su tre questioni, che io, vi pongo, la prima questione è, quali sono i vostri, tre personaggi preferiti, preferiti della Bonelli, personaggi di tutti i tempi, quindi, anche serie che si sono chiuse, potrebbero essere Brad Barron, piuttosto che Damian, piuttosto che, altre, che non vengono più pubblicate, ma che, tuttavia, sono serie che sono state pubblicate, per un periodo più o meno lungo, dalla Sergio Bonelli, l'editore, i primi tre, che voi preferite, poi, un'altra cosa, che secondo me, è fondamentale, e mi piacerebbe molto sapere, un difetto, della Bonelli, e un pregio, della Bonelli, ditemi se, questa idea, vi può piacere, anzi, se questa idea, vi piace, cominciate già, a mandarmi, le vostre opinioni, nei commenti, se questa idea, vi piace, io, mi, mi impegno, diciamo così, a fare poi, un video riassuntivo, raccogliendo tutti quelli che sono i pareri, facendo una specie di classifica, di quello che sono state le vostre osservazioni, sarà un video abbastanza, secondo me, curioso, e anche utile, probabilmente, per confrontarci, per confrontare le nostre idee, per vedere quali sono i personaggi, a cui siamo più affezionati, più legati, cosa ci piace di più, e cosa ci piace di meno, di questa casa editrice Bonelli, che comunque io, continuerò sempre, e lo dico chiaramente, ad elogiare, perché io sono cresciuto con la Bonelli, se in Italia, non ci fosse stata, e non ci fosse, oggi come oggi, la Bonelli, credo che, ogni persona, possa capire, quale vuoto, ci sarebbe, all'interno del fumetto, italiano, italiano, quindi, detto questo, aspetto, i vostri commenti, le vostre opinioni, le aspetto, molto avidamente, come sempre, ripeto, questo è un canale, di confronto, non è un canale, monodirezionato, ma è un canale, il più possibile, interattivo, fra noi appassionati, di fumetto, quindi, ripeto, aspetto, i vostri, commenti, nel frattempo, non posso fare altro, che dirvi, buoni fumetti a tutti, e, alla prossima!